Francesco da Ritiero di Mondovì Il mercato cosa ne pensi? Cosa manca ancora al Torino? Il mercato manca un portiere e sicuramente un difensore centrale Va bene, grazie Prego, grazie a voi Patrizio, le tue impressioni della squadra fino ad oggi come ti sembrano? Molto bene, molto bene, vedo una squadra molto compatta, voglia di fare bene, dei giovani che corrono, si divertono col gruppo, bene, molto bene Secondo te dove può arrivare il Torino in classifica quest'anno? Ma spero una salvezza più tranquilla possibile, il prima possibile, poi cosa si riesce a fare sarà, si vedrà Sul mercato ancora cosa ti aspetti? Ma un portiere, spero una buona punta Tipo? Ma Maxi Lopez poi si vedrà Va bene, grazie mille Grazie a te Beppe, dal ritiro di Mondovì, qual è la tua impressione della squadra fino adesso? Sono comunque abbastanza contento, ho visto davanti che ci sono immobili all'arrondo, anche qua nella partita che hanno fatto, che si cercano Ho visto fare anche due belle cose a Maximovic, anche a Farner, insomma anche i nuovi non mi dispiacciono Secondo te questa squadra dove può arrivare alla fine del campionato? Ma io mi auguro prima di tutto che si salvi prima possibile e che riusciamo a fare belle partite, magari il derby di fare buoni risultati e se riusciamo ad arrivare alla parte sinistra insomma tanto di guadagnato Dal calcio mercato ancora cosa ti aspetti? Ma al calcio mercato si parla di prendere un portiere, un terzino, ma a Padelli insomma non mi dispiacerebbe E in terzino io tra l'altro vorrei che D'Ambrosio rimanesse prima di tutto, poi se questo Gulami non l'ho mai visto arrivasse e se è buono o meglio per noi E la punta? La punta? Ma a Maxi Lopez un po' mi piace, un po' no, perché insomma tu sto aspettando una squadra nell'altra Boh, insomma magari c'è una sorpresa come ha detto il presidente, chissà Grazie mille Ok, grazie a voi